Tutti sanno chi è Presidente della Repubblica, ma in pochi sanno quali siano i suoi poteri. Ogni giorno il Presidente autorizza, promulga, emana, indice, nomina, ratifica, presiede, dichiara, concede, conferisce, ma come possiamo riassumere in poche parole il suo complesso ruolo? Dobbiamo partire dalla Costituzione. La figura del Presidente rappresenta il perno del Paese, intorno al quale ruotano tutti i poteri classici, il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario. È prima di tutto il Capo dello Stato, rappresenta l'unità nazionale ed è garante della Costituzione. Il suo è un ruolo di coordinamento, come quello svolto da un direttore d'orchestra. Una parte dei suoi poteri è legata al Parlamento, ovvero le due Camere, tra cui quello di promulgare o, in alcuni casi, di porre il veto sulle leggi da loro approvate. Il Presidente può intervenire nei loro dibattiti inviando un messaggio, in cui esprime pareri o dubbi. In più, se non ci sono maggioranze possibili per formare un governo, può fissare nuove elezioni sciogliendo le Camere. Nomina il Presidente del Consiglio e, con il suo aiuto, i ministri e le ministre. Presiede il Consiglio Superiore di Magistratura e può concedere la grazia e commutare le pene. Inoltre, nomina cinque giudici della Corte Costituzionale e i senatori e le senatrici a vita, è il capo delle Forze Armate e conferisce le onoreficenze. Il mandato del Presidente della Repubblica dura sette anni e viene eletto dal Parlamento in seduta comune, quindi da tutti i membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, con l'aggiunta di tre delegati per ogni regione. Fa eccezione la Valle d'Aosta, rappresentata da un solo delegato. Tutti insieme sono chiamati i grandi elettori. La votazione avviene per scrutinio segreto. I circa mille grandi elettori votano protetti da catafalchi, le enormi e tradizionali cabine elettorali del Parlamento, e inseriscono i loro voti nell'urna, che negli anni è stata amichevolmente ribattezzata in salatiera. Il futuro Presidente deve essere un cittadino o una cittadina con più di 50 anni e deve godere dei pieni diritti politici e civili. Perché è complesso eleggere il Presidente della Repubblica? Perché si deve arrivare al quorum, ovvero il numero minimo dei voti necessari per essere eletti. Se nei primi tre scrutini non viene raggiunto il quorum dei due terzi dei voti, a partire dal quarto, per facilitare l'elezione, il quorum si abbassa la maggioranza assoluta, ovvero al 50% più uno dei votanti. Non c'è un numero massimo di scrutini. Si può continuare all'infinito finché non si raggiunge il quorum. Per tutte queste ragioni è importante che la scelta del Presidente sia condivisa da quante più forze politiche possibili. Dal 24 gennaio, con alcune procedure differenti a causa della pandemia, inizieranno le elezioni per il tredicesimo o la tredicesima Presidente della Repubblica. Nell'Aula della Camera, alle 15, si riuniranno i 1.009 grandi elettori che dovranno eleggere il successore del Presidente Mattarella. Chi salirà al Quirinale? Lo scopriremo in questi giorni.